Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10. L'apertura del telegiornale è dedicata alla polemica sorta nelle ultime ore tra il deputato regionale di Diventerà Bellissima, Nello Musumeci e il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Il governatore è pronto a querelare Musumeci dopo l'affermazione di sabato scorso a Gela in occasione del referendum sulle trivelle in cui sosteneva che Crocetta è a libro paga dei petrolieri. Sentiamo. E quindi non può né Renzi né Crocetta che è scritto nel libro paga politico dei petrolieri, nessuno dei due può pensare ancora di venire a dire non andate a votare per il referendum, tanto non vale, mancherà il quorum necessario. E' una vergogna che un uomo delle istituzioni non debba tutelare il valore e il principio della partecipazione democratica. La dichiarazione rilasciata sabato scorso dal deputato regionale di Diventerà Bellissima, Nello Musumeci, nell'ambito dell'incontro promosso a Gela sul referendum sulle trivelle di domenica 17 aprile prossimo, ha acceso la polemica con il presidente della regione siciliana, il gelese Rosario Crocetta. Musumeci ha detto il governatore, ha superato ogni limite e sono pronto a querelarlo. Ho lavorato a Leni come tanti altri gelesi, ha aggiunto, ed avevo bisogno di quel lavoro perché non facevo parte di una famiglia agiata. Ho sempre lottato, ho avviato delle vere e proprie battaglie da assessore, da sindaco e da eurodeputato, una su tutte e quella sui veleni del clorosoda. Poi aggiunge, ho lottato la mafia dentro i consorsi dell'indotto. Dunque Musumeci di cosa parla, si interroga Crocetta. Domenica 17 aprile, come dicevamo, è previsto il referendum, si vota dalle 7 alle 23. Con il referendum trivelle i cittadini devono pronunciarsi sulla progazione della legge sulle trivellazioni solo per le parole per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La norma, sottoposta al referendum abrogativo, si trova nella legge di stabilità 2016. L'oggetto del referendum sono solo le trivellazioni effettuate entro le 12 miglia marine, che corrispondono a circa 20 chilometri. Sette sono in Sicilia. Non sono quindi la maggior parte delle trivellazioni in acque italiane, complessivamente 66, e collocate soprattutto oltre le 12 miglia, e dunque fuori dal referendum. Se al referendum del 17 aprile vincesse il sì, entro 5-10 anni le concessioni verrebbero a scadere e quindi l'attività estrattiva dovrebbe cessare. Oggi le concessioni hanno una durata di 30 anni, prorogabili di 10. Con il sì non si elimina la possibilità di proroga. Ci sarebbe la cessazione nel giro di alcuni anni delle attività attualmente in corso, tra cui quelle di Eni, Shell e di altre compagnie internazionali. Una vittoria del sì avrebbe un effetto politico e simbolico ben più forte dello specifico referendario, spingendo la politica a fare quei passi verso le energie rinnovabili che in altri paesi europei sono stati fatti negli anni passati e che in Italia sono al palo o quasi. Ci sono anche i contrari al referendum del 17 aprile. Dubbi sono stati espressi anche da alcune sigle sindacali che temono la perdita dei posti di lavoro. C'è un'altra obiezione più in generale che i sostenitori del no o del mancato quorum avanzano e quella del fabbisogno energetico. Le trivelazioni nel mare italiano, in particolare quelle entro le 12 miglia oggetto del referendum, estraggono principalmente gas metano, coprendo circa il 10% del fabbisogno nazionale. Essendo referendum abrogativo, una eventuale bocciatura lascerebbe la situazione inalterata, cioè le ricerche e le attività petrolifere attualmente in corso potranno proseguire fino alla scadenza. Soffriva di una grave malattia la settantenne gelese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri mattina intorno alle 8 sulla battigia nei pressi del pontile sbarcatoio sul lungomare Federico II di Svevia. La donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia e dal magistrato di turno, si è uccisa lanciandosi dal pontile. La sera prima era stata vista in stato confusionale a girarsi nei pressi del lungomare. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'interessante convegno che si è svolto in ospedale a Gela nell'ambito della giornata della traumatologia. Ce l'avamo anche noi, vediamo. Fratture al femore e tempi di modalità. Se ne è parlato durante un convegno che si è svolto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele nell'ambito della giornata della traumatologia gelese. Destinatari dell'incontro sono stati medici di medicina generale, pediatri, ortopedici e terapisti. L'ortopedia di Gela c'è e c'è anche a buon livello. La conferma è il consenso un'anime di autorità sia a livello nazionale e internazionale oltre a tutti i primari del circondario e anche oltre nel venire qua e a dimostrare questo. Uno degli obiettivi fondamentali che ci è stato proposto a livello di direzione strategica è quello di diminuire l'immigrazione sanitaria. Quindi diciamo l'obiettivo è quello. E far capire alla gente che non è necessario andare fuori, ci si può curare anche a Gela. Un focus medico che ha visto la presenza tra gli altri della professora Max Morandi dell'Università Americana. La platea è stata presente molto in questa giornata qui a Gela, un folto pubblico sia di medici che di utenza cittadina che ha voluto testimoniare come l'ortopedia gelese sia importante per la città e per il circondario. Ed è importante sottolineare anche che non si emigra più, si può curare anche a Gela. Certamente, si è visto già negli ultimi mesi da quando il nuovo corso dell'ortopedia gelese è stato instaurato così con successo come a un certo punto la stragrande maggioranza degli utenti traumatizzati possa essere trattata qui in zona. Durante il convegno si è parlato tra l'altro delle complicanze a breve e medio termine e del trattamento con placche e viti. Sono ovviamente le fratture oggi in grande aumento per via degli incidenti automobilistici, degli incidenti sul lavoro quindi rimane sempre un argomento molto attuale e naturalmente parlare del primo trattamento che deve essere atto ad evitare eventuali complicanze diventa un momento importante. La segreteria scientifica era composta dai dottori Sebastiano Mangano, Emanuele Aliotta, Andrea Costa, Luigi Di Cata, Angelo Raitano e Salvatore Sauna. Abbiamo avuto una grande risposta sia dei colleghi ortopedici che delle altre figure professionali che abbiamo invitato come i fisiatri oppure i terapisti della riabilitazione. Sicuramente la caratura degli ospiti e dei relatori ci ha aiutato. È andata veramente molto bene. Il presidente della commissione indagine sui rifiuti Salvatore Gallo del Partito Democratico, costituitasi qualche mese fa, ritiene che le polemiche sorte nei giorni scorsi a proposito dell'istituzione e funzionamento della stessa commissione che doveva essere costituita a costo zero siano inutili e populistiche e sottolinea la volontà della stessa commissione ad adeguarsi a quanto verrà deliberato dal Consiglio Comunale. Inoltre, sottolinea Gallo, la commissione al fine di poter pienamente raggiungere gli obiettivi prefissati fa presente che ad oggi gli uffici del settore ecologia e ambiente, malgrado le ripetute sollecitazioni, nonché gli impegni assunti dal dirigente Emanuele Tuccio, non hanno ancora trasmesso i dati relativi ai costi e ai servizi per gli anni oggetto delle indagini. Gallo invita il sindaco a voler immediatamente predisporre un ordine di servizio al dirigente Tuccio affinché si attivi a trasmettere quanto richiesto con la massima sollecitudine. Entro il prossimo 2 maggio le famiglie residenti a Gela che ne posseggono i requisiti possono presentare al Comune la richiesta per ottenere l'assegno civico rivolto ai soggetti in difficoltà economica e sociale. La domanda va presentata al protocollo generale o con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Hanno diritto all'assegno civico e cittadini italiani, comunitario e extracomunitari tra i 18 e 64 anni di età, residenti da almeno un anno a Gela e iscritti all'ufficio del lavoro, senza patologie o condizioni di salute che ostano allo svolgimento delle attività previste, con un reddito complessivo familiare percepito nel 2015, inferiore al minimo vitale, privi di altri contributi o provvidenze che garantiscano la condizione precedente. Agli extracomunitari infine si richiede la regolarità della carta di soggiorno. Contratto diretto per il rilancio dell'economia locale è l'obiettivo del coordinamento delle opere di Gela che per venerdì 15 aprile prossimo alle 10 nei locali del Teatro Eschilo ha promosso il primo network del Mediterraneo rivolto ad imprese, artigiani, professionisti e studenti, prevista la presenza tra gli altri del vice sindaco Simone Siciliano e di Massimo Barbieri, amministratore delegato di Enimed. Continuo il lavoro del coordinamento delle opere, non lavoriamo più solamente sul piano sociale ma la necessità di andare a trovare comunità, collegamenti e rete negli altri settori è una delle peculiarità. Il progetto di venerdì 15, totalmente organizzato dalle responsabili del settore economico del coordinamento delle opere, Francesco Greco ha questo tipo di obiettivo, coinvolgere imprese, professionisti per creare una rete di sviluppo del territorio. Gela è una città abbastanza particolare in questo periodo, difficoltà di lavoro, difficoltà economiche che possono essere superate solo ed esclusivamente con il supporto di tutti, con la comunità delle imprese locali, lavorare insieme per lo sviluppo economico della città. L'idea nasce dall'esigenza di promuovere la cultura dell'incontro tra le persone che compongono le imprese. Conoscersi, aiutarsi, fare rete sono oggi punti di partenza essenziali per la costruzione di un progetto imprenditoriale serio e competitivo. Oggi un po' per come si stanno evolvendo i mercati globali e l'economia, occorre fare rete e stare insieme per poter accedere a questo tipo di mercati. Per cui nasce l'esigenza, che magari finora non c'è stata, di fare corpo e di mettersi insieme. Come coordinamento dell'opera abbiamo pensato di proporre a tutte le imprese gelesi un contratto di rete, che è una forma giuridica riconosciuta allo Stato italiano, e quindi di promuovere una nuova cultura di impresa basata sull'incontro di queste figure imprenditoriali. Siamo convinti che dall'incontro stesso possono nascere opportunità di sviluppo e opportunità di crescita per le singole aziende che poi ne faranno parte. Appuntamento questa sera alle 21 con 10 domande 10, ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia e Massimiliano Santoro, responsabile della sezione polizia giudiziaria del commissariato di Gela. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. La bella stagione ormai alle porte, tra sole e poche settimane, si avvicinerà alla tanto temuta prova costume. Da anni la tecnologia viene incontro alla bellezza e in un'evoluzione continua. Solida esperienza professionale e innovazione, questo è il concetto vincente del centro Lilium Benessere di Gela. È stato presentato T-Shock Laser, un prodotto di ultima generazione frutto di tecnologia avanzata che consente di effettuare un trattamento nel massimo comfort finalizzato al rimodellamento corporeo. Oggi alla Lilium Benessere si presenta una nuova tecnologia nel campo dell'estetica. È una rivoluzione nel settore, è la cosiddetta T-Shock Laser. È un'apparecchiatura all'avanguardia che serve per ridurre in maniera localizzata il grasso e la cellulite senza assolutamente far fatica, quindi in completo relax. Come avete potuto vedere, si tratta di un'apparecchiatura assolutamente nuova. È in grado di affrontare quegli inestetismi che non si risolvono in altro modo. E tra l'altro riusciamo contemporaneamente a trattare varie zone, sia per gli uomini che per le donne, anche le zone che difficilmente si possono trattare, tipo le braccia, comunque l'addome, il doppio mento e le zone cosiddette più difficili. Quindi con questa metodologia si può affrontare nel migliore dei modi qualsiasi inestetismo che fino adesso magari non si poteva affrontare, soprattutto in completo relax, che questa è una cosa sicuramente non da poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Resita il pianistico del gelese Alberto Ferro al fine di sostenere il progetto Music Lab per la scuola. Appuntamento previsto per domenica 17 aprile prossimo alle 19.30 al Teatro Comunale Eschilo su iniziativa dell'Associazione Perfetta Letizia preseduta da Giuseppe Failla. Il costo del biglietto è di 10 euro. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. per informazioni 0933 911 892. Proseguono gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione teatrale concertistica gelese promossa dall'Associazione Musicale Giuseppe Navarra di Gela. Domenica 17 aprile alle 19.15 nei locali di Palazzo Pignatelli è previsto il concerto pianistico a quattro mani con Maria Provenzano e Laura Blandino. La denominazione dell'evento Slow Fish già dà l'idea di quello che volete promuovere questa sera? Slow Fish perché noi parliamo in siciliano. Noi siamo siciliani, siamo orgogliosi della nostra lingua e siccome una grossa manifestazione che Slow Food internazionale organizza annualmente è Slow Fish nella città di Genova che detiene il marchio registrato e allora mi è venuta l'idea e ho proposto al mio presidente regionale che poi ha proposto agli organi nazionali di poter organizzare una manifestazione con il nome nostro tipico siciliano Slow Fish e questa sera abbiamo saputo che sarà adottata in tutta la Sicilia per tutte le manifestazioni che parleranno di pesce Slow Fish. Negli ultimi 30 anni la pesca siciliana si è ridotta del 60% sia per il numero delle imbarcazioni che sono andate e demolite sia per il numero degli addetti che si sono allontanati dall'attività. Nonostante questo, che erano le misure che ci hanno richiesto a livello comunitario la comunità europea ci ha imposto delle misure dovevamo diminuire lo sforzo di pesca, lo abbiamo fatto il risultato è stato un niente di fatto. Noi europei vengono imposte delle regole, agli altri 21 nessuna regola se non quelle degli stati extracomunitari e delle loro forme di intervento. Questa serata indica che sì, il comparto della pesca gele è in sofferenza ma è ancora vivo, nel senso che voi ci credete ancora in questo lavoro? Sì, infatti ci crediamo ancora anche perché il mestiere del pescatore è un mestiere tipico, un mestiere di tradizione e non si impara dall'oggi al domani ma si ha nel sangue, si ha nel sangue vivere il mare e siamo molto legati, talmente legati che in altre occasioni con queste condizioni avremmo già abbandonato il settore. Con questa degustazione stasera vogliamo avvicinare la gente al mare, alle risorse che può dare, ai prodotti tipici che ci può dare e far conoscere un problema, comunque che già ha la sua visibilità, il problema del porto rifugio che è un problema ormai atavico. Preside, ogni occasione è davvero preziosa per arricchire il curriculum delle competenze dei ragazzi e anche questa sera gli studenti davvero si stanno dando molto da fare con grande entusiasmo, questa è una nota che rileviamo sempre. Sicuramente è un contributo notevole, eccellente che danno i ragazzi a queste manifestazioni, mi trovo favorevole a queste iniziative, tant'è che ho detto subito sì perché è un modo per far vedere che l'Istituto Alberghiero è all'avanguardia per competenze e per capacità di dare spettacolo alla fine, infine, tutto sommato è questo che si vede. Al fianco dei pescatori? Sicuramente, quindi una collaborazione proficua e molto interessante per noi. Parliamo di prodotti locali, la materia prima del nostro mar Mediterraneo, il buon pesce del nostro mare, l'Alberghiero non poteva non essere presente, che cosa state preparando questa sera? Allora, stasera abbiamo una pasta al nero di seppia, la pasta in particolare sono dei fusilli artigianali di un'azienda agricola locale e delle seppie fritte, un classico. È un prodotto semplice ma che fa tanto bene alla salute? È un prodotto semplice ma è genuino, è dei nostri mari, la seppia è stata pescata dai pescatori del portorifugio di Gela, è seppia fresca, diciamo che più genuina di queste non ne possiamo trovare. Adesso parliamo di calcio, il Gela perde a Paceco contro il Dattilo Noir, rimanda la festa di promozione in serie D. Domenica prossima al Presti col Cus Palermo bisognerà assolutamente vincere per brindare al salto di categoria, vediamo. Tutto rimandato alla prossima sfida in casa col Cus Palermo, la festa di promozione del Gela ieri non c'è stata, la battuta d'arresto a Paceco contro il Dattilo Noir dura da digerire, durissima ma è inutile recriminare, serve a nulla. I biancazzurri hanno sprecato il primo match point per il salto in serie D arrendendosi ai trapanesi, un 2-1 maturato al termine di una gara combattuta su ogni pallone. Alla fine però ha vinto la squadra allenata da Massimo Formisano che ha messo in campo tutte le energie per sgambettare i più blasonati avversari. E ci sono riusciti. Il Gela ha pregustato la vittoria del torneo con una giornata di anticipo solo per pochi minuti. Una gioia durata appena 120 secondi, lo spazio di tempo che è maturato dal gol realizzato da Bonafini al 21esimo del primo tempo a quello siglato da Romeo due minuti dopo. I ragazzi del tecnico Toto Bruculeri al 42esimo hanno avuto la possibilità per riportarsi in vantaggio ma la conclusione di Mincica non ha centrato il bersaglio. Il Dattilo Noir non è stato a guardare e ha avuto le sue buone occasioni per battere il portiere Pandolfo ma l'estremo difensore è stato bravissimo. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1-1. Nella ripresa il Gela ha premuto sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio che avrebbe chiuso definitivamente il discorso promozione. Sfortuna ed imprecisione però hanno detto no alla truppa giarese. Incredibile al 18esimo l'occasionissima capitata a Scerra. Il numero 11 l'ha fallita da pochi passi. E quando la partita sembrava essere incanalata sul pareggio è arrivata la doccia fredda. Al 38esimo pettinato in campo da appena 5 minuti ha commesso un fallo in aria. Rigore ed espulsione. Dai 11 metri Romeo non ha fallito. 2-1 per il Dattilo e partita chiusa. E promozione rimandata. A fine partita la delusione tra Biancazzurri era tangibile, evidente. Ma nulla, dicevamo, è compromesso. Domenica c'è solo da vincere e sarà festa. E davanti al proprio pubblico. E sarà, se vogliamo, ancora più bello. Festa, dicevamo, solo rimandata. Al presti non si passa. E lo stadio si colorerà di Biancazzurro. La serie D aspetta il Gela. E il Gela è pronta a farla sua. E nel campionato di promozione è finita per 2-2 la gara tra Atletico Gela e Canicattì. Mentre il Macchitelle è stato battuto sonoramente per 4-1 dall'Aragona. È prevista per venerdì 15 aprile prossimo alle 19. L'inaugurazione della sede della scuderia Valvole Pistoni Gela, diretta da Davide Millauro. Si tratta di un'associazione di amatori e cultori di auto d'epoca. L'iniziativa si terrà in via Portuense, al numero 17, nel quartiere Fondo Iozza. C'è l'informazione cinematografica e ustica. Per 35 anni ti hanno nascosto la verità. Il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella e Gela. Sono 3 gli orari di rotazione della pellicola. Ve li ricordiamo. 17.30, 19.30 e 21.30. Mercoledì 13 alle 21 e giovedì 14 aprile alle 18 e alle 21, nell'ambito della stagione teatrale, sarà portata in scena lo spettacolo. Attenti a quei due, la regia è di Luigi Licata. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. A tutti voi un buon inizio settimana. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro video.